Al Focus Tour di Napoli siamo con Franco Dischi, segretario generale a Su Sicurezza. Siamo ripartiti? Sì, il Focus Tour è finalmente ripartito dopo molte sessioni fatte attraverso il web che pur avendo comportato un'affluenza incredibile perché le persone sono molto interessate a questo genere di argomenti visto l'importanza degli argomenti e visto anche chi racconta gli argomenti. Abbiamo sempre avuto la collaborazione dell'ingegnero cancelliere che nel settore lo possiamo definire il papà del nuovo codice di rivelazione incendio perché oltre ad aver agito all'interno del codice in modo personale ha coordinato i vari gruppi di lavoro che hanno portato a termine un'opera che è veramente un'opera colossale che ha messo molto ordine per quanto riguarda la progettazione e la comprensione della problematica della rivelazione incendio. Siamo ripartiti anche con un mini Focus Tour una settimana fa circa presso la Fiera di Milano dove abbiamo fatto le prove per il Focus Tour più in grande. Era un Focus Tour di due ore. Ecco, io personalmente ho sempre avuto poca confidenza con i seminari dentro le fiere contrariamente al solito questo seminario è venuto molto bene c'era un'affluenza di 40 persone, purtroppo seduti ce ne stavano solo 20 però gli altri 20 facevano da cornice e in quel caso l'altro comandante dei pompieri che era l'ingegner Claudio Giacalone dal comando di Como è stato anche lui molto contento della partecipazione e delle domande interessanti che poi sono venute fuori. Parlando di Napoli è un po' che noi progettavamo di venire qui perché conosciamo che c'è un bacino di utenza molto grande la location che ci hanno riservato è una location veramente molto bella questo centro per la formazione e per la sicurezza della regione Campania è una struttura molto accogliente e attrezzata con delle sale che sono veramente all'altezza della miglior qualità possibile. è stato un focus tour molto interessante noi con l'ingegner Cancelliere che abbiamo portato anche qua è che lui si è prestato gentilmente a venire tra l'altro è venuto in macchina quindi ha fatto un viaggetto piuttosto lungo però anche lui ci aveva tenuto ad essere presente a questa ripartenza in presenza che come tutti sappiamo dà un'impronta diversa, dà un risultato diverso data l'empatia che si crea tra gli oratori e il pubblico poi l'ingegner Cancelliere è un oratore particolarmente brillante quindi coinvolge a cattura il pubblico e quindi la cosa è uscita molto bene anche gli altri, gli altri tecnici che successivamente hanno parlato dopo Cancelliere quindi sono personaggi che sono certificati presso il CEI, presso l'UNE quindi gente che concorrono anche loro a fare le norme hanno fatto un'esposizione molto puntuale, molto aggiornata e molto precisa e quindi gli intervenuti li abbiamo trovati veramente molto reattivi e molto contenti quindi possiamo dire che questo focus tour è stato molto interessante e ci dà coraggio per progettare subito uno dopo all'inizio dell'anno che adesso vediamo dove farlo magari sarà a metà Italia vediamo un po' dove farlo ecco però l'esperienza è stata veramente molto positiva siamo soddisfatti noi come promotori sono soddisfatti quelli che sono venuti a sentirci quindi ci hanno dato coraggio e vogliamo andare avanti grazie